un aiuto e chi chiamiamo allora antonio antonio facciamo un applauso ad antonio andò vedi di qua ok siete pronti scusi che fate in due una festa country vai un bravo scritto da l'onestone di scatia sono i miei di games di scatia un applauso di scatia sono i miei di scatia sono i miei di scatia sono i miei di scatia un applauso di scatia sono i miei di scatia sono i miei di scatia sono i miei di scatia i miei di scatia sono i miei di scatia Hanza attraan un applauso bravissimi che accoppiate ok allora tu hai fatto già il secondo puoi prendere il premio tu dove vai? devi fare ancora un altro brano ok? abbiamo gli ultimi tre partecipanti a questa bellissima esibizione e poi iniziamo con l'orchestra Rhapsodia allora secondo brano che fai? romantico un brano tutto romantico vai! ok Grazie a tutti. 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 Ok, un grande applauso al nostro Antonio, giusto? Ok, salutiamo anche Antonio, scegli di un premio? Antonio Romani! Sempre offerto, ricordiamo dal comitato, anche a lui piace bere, si sa che cos'è, comunque è una bella confezione di qualcosa di liquido.